Continua l'attività sociale del Movimento I Seguaci di Maria, prosegue questa attività con un importante convegno, un importante incontro domani che tratterà il tema delle tossicodipendenze. Domani sera, venerdì alle 20.30, sempre al teatro dell'Oratorio Salesiano di Canicattì, c'è questo convegno con ospiti il dottore Alongi del CERT di Canicattì e lo scrittore nisseno Giuseppe Nicosia che parlerà di una sua esperienza di uso personale di droghe. E' chiaro che si parlerà di questa realtà sempre nel pieno rispetto della legge, della libertà personale, ma secondo me è un convegno veramente importante al quale tutti siete invitati perché di questi tempi molti ragazzi fanno uso di sostanze stupefacenti. Quindi questo succede sicuramente perché è un'età della crescita, quindi è un'età difficile, si cerca di sperimentare cose nuove che però sono strade che portano solamente a dei danni. Abbiamo dei dati che possiamo dire che effettivamente c'è un aumento del consumo di alcol, specialmente tra i minorenni, e consumo anche di altri tipi di droghe, tra cui la cocaina. Quindi benvengano questi convegni in cui si può parlare tranquillamente affrontando gli argomenti delle tossicodipendenze e sviscerandoli, cercando meglio di parlare quando è più possibile, mi auguro, con le famiglie e con i giovani per fare capire i danni delle dipendenze in senso generale. Allora io più che problemi con la droga, ho problemi con la giustizia. Sono stato arrestato perché coltivavo delle piante di marijuana. Sottolineo non problemi con la droga ma con la giustizia perché non sono dipendente da alcuna sostanza stupefacente. Fare uso di marijuana ne ho fatto uso per quasi vent'anni, non mi ha alleso più di tanto. Fermo restando e comunque conduco una vita molto sana. Faccio educatore alimentare quindi mangio bene, mi alleno molto, non fumo assolutamente sigarette, non bevo alcolici. Quindi probabilmente sì, ho fatto uso di una sostanza ritenuta stupefacente che magari mi ha leso in un determinato modo e mi sono salvato perché mi sono mantenuto puro da qualsiasi altra sostanza stupefacente. tabacco e alcol in primis. Per i più curiosi non bevo neanche caffè e quindi neanche la caffeina mi lede sotto questo punto di vista. Ecco, indipendentemente poi dalla tua esperienza personale, comunque i momenti come quello in programma domani sono importanti per far conoscere ai giovani tutte le varie sfaccettature che questo mondo ha. Assolutamente sì, io sono sempre comunque per la giusta informazione. Penso che ognuno di noi deve costruire il suo pensiero personale in base sia alle sue esperienze ma in base anche a quella che realmente è la verità.